Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team La stagione del riscatto La stagione del ritorno del calcio che conta La stagione che ha riacceso i sogni dei tifosi Comunque la si voglia chiamare la prossima edizione della Serie A Team non sarà un campionato normale per il Milan Dopo la tempesta rossonera che si è abbattuta nell'ultima sessione estiva di mercato la sticella per la formazione di Montella si è inevitabilmente alzata riaccendendo i riflettori su una società decisa a tornare ai fasti di un tempo Lo testimoniano gli 11 acquisti, anzi i 10 più 1 perché ai vari che si, Borini, Rodriguez, Cialanoglu, Conti, Silva, Piglia, Musacchio e Bonucci Va aggiunto anche Gianluigi Donnarumma Dopo la telenovela legata al suo rinnovo una squadra nuova e completa in tutti i reparti che ha dato già sprazzi di quello che potrà essere dopo aver superato brillantemente i preliminari di Champions grazie anche alle prove di chi nel Milan già c'era come Giacomo Bonaventura e di chi invece nel nuovo Milan ci vuole essere come il Baby Bomber dell'estate in Pudrone esperienza, gioventù e un pizzico di follia il Milan di Montella per la stagione 2017-2018 è un mix pronto a esplodere al tecnico campano il compito di saper guidare al minimo un Bollinger che alla prossima griglia di partenza si presenterà nelle prime posizioni